Tragedia sul lavoro sul territorio salernitano. Si registra purtroppo una nuova vittima. Il fatto di cronaca si è registrato nel pomeriggio di ieri. E' deceduto Pierino Ronzo, 55 anni, operaio a Montecorvino Pugliano. L'uomo, da una prima ricostruzione dei fatti, pare che stava effettuando la posa della guaina sul tetto di una casa in piazza d'aiutolo. I lavori erano necessari per evitare infiltrazioni d'acqua e commissionati dal proprietario dell'immobile che aveva affittato la propria abitazione. Nel corso dell'intervento, per causa in via d'accertamento, il 55 anni si sarebbe accasciato ed è stato investito dalla fiamma libera utilizzata per il lavoro, rimanendo ustionato. Prontamente sono stati allertati i soccorsi che sono però risultati inutili. Infatti hanno potuto solo constatare il decesso. L'operaio pare che sia stato avvolto dalle fiamme che gli hanno provocato le ustioni mortali. Il suo corpo era carbonizzato. Sul posto, l'arrivo dei sanitari e dei carabinieri della locale stazione, coordinati dalla compagnia di Battipaglia, agli ordini del Maggiore Vitantonio Sisto, che ora indagano sull'accaduto. Dei primi rilievi, condotti in collaborazione con il Servizio Prevenzione e Infortuni dell'Asra Salerno, pare che tra la vittima e il proprietario dell'immobile non c'era alcun rapporto di lavoro ufficiale. L'immobile è stato sottoposto a sequestro per ulteriori accertamenti che verranno svolti nei prossimi giorni. Al momento non ci sono indagati. La salma del 55enne è stata condotta all'ospedale di Battipaglia per l'esame autoptico che verrà svolto nelle prossime ore. L'operaio viveva da solo a Montecorvino Rovella, non era sposato e non aveva figli. La comunità si stringe attorno al dolore della famiglia per questo ennesimo incidente mortale sul lavoro.